Sarà attivo da domani il numero verde unico della Liguria 800 098 543 gratuito anche dai dispositivi cellulari a disposizione di tutti i cittadini per prenotare gratuitamente esami e visite nella propria ASL oppure in una prima fase su richiesta dell'utente anche nelle altre ASL del territorio, garantendo così una maggiore possibilità di scelta. I numeri di prenotazione delle 5 ASL rimarranno comunque attivi. La chiamata sarà automaticamente trasferita al numero verde unico regionale. L'obiettivo è arrivare alla progressiva disattivazione dei numeri delle singole ASL.